Siamo col sindaco Luca Salvetti al Modigliani Forum, oggi è il primo giorno in cui si inaugura questo punto di vaccinazione per la città e oltre, è una giornata importante. Fondamentale, circa due settimane fa insieme all'azienda sanitaria, ai gestori del Palamo Modigliani abbiamo deciso, io ho pensato che questo potrebbe essere naturalmente il posto giusto per strutturare qualcosa di importante sul fronte dei vaccini, un hub vero e proprio, così è stato, in due settimane è stato allestito tutto all'interno e ora vedere tutte queste persone che finalmente arrivano a vaccinarsi, oggi ne sono previste circa 500, è un bel vedere perché Livorno da questo punto di vista se arrivano i vaccini ha una possibilità di di strutturarsi, di essere dal punto di vista funzionale pronta per vaccinare il prima possibile e il meglio possibile.